Martina Cappellano Revisore 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 Tutti noi viviamo in una società che è immersa nella superficialità. Con i social network che ci imprigionano a modelli perfetti a cercare di sottolineare tutti i momenti di contentezza nascondendo i momenti di fragilità. ma per mia esperienza in generale le vite non sono mai perfette e c'è almeno un periodo nella vita di ognuno di noi di una crisi individuale, spesso molto profonda dove abbiamo bisogno degli altri gli altri per le vite singole sono solitamente la famiglia o gli amici che sono la famiglia che ci scegliamo o un perfetto sconosciuto che entra nelle nostre vite in quel momento e che ci riporta a galla quando però parliamo di crisi collettive, di plurali abbiamo un problema che sono i numeri i numeri nascondono le singole storie, i singoli volti le singole famiglie che stanno dietro i tanti piccoli uno allora dobbiamo fare uno sforzo tutti e tutti quanti a prescindere dal tipo di crisi di cui stiamo parlando umanitaria, sociale, industriale per cercare di andare oltre i singoli numeri a vedere quello che c'è dietro a prescindere se si stia parlando di vittime della guerra o di vittime per migrazioni o crisi ambientali o di persone che stanno per perdere il posto di lavoro la storia che oggi vi racconto non è la mia storia è la storia di duemila famiglie in tutto il mondo che sono rimaste appese un filo per un anno e mezzo, quasi tre anni fa di cui 500 di queste sono solo di questa città Corneliani è un'azienda molto importante per il territorio mantuvano tra le più importanti uno degli alfieri di Mantua nel mondo produce capi d'alta moda ha 70 anni di storia industriale assolutamente solida e poi a un certo punto qualcosa cambia succedono due cose nel breve periodo la prima cosa che succede è che c'è un conflitto all'interno del Consiglio di Amministrazione per il controllo della società e questo avviene durante un calo del mercato la seconda cosa imprevista e completamente inaspettata è l'arrivo del Covid che travolge completamente il mercato tessile chiude i negozi e spegne le produzioni perché non si riesce più a vendere e quindi il mercato tessile viene completamente travolto dal Covid in maniera assolutamente inaspettata i vertici societari non credono più al business che si fa in questa azienda lasciano la Corneliani su un binario morto del concordato e lasciano le chiavi dell'azienda al tribunale la fabbrica chiude i lavoratori sono fuori ai cancelli da quel giorno le lavoratrici e i lavoratori corneliani operai e impiegati insieme si vestono di rosso con una scritta lavoro e si dirigono verso il centro della città nel cuore della città da quel giorno prima la Gazzetta di Mantova e poi tutti i media italiani hanno iniziato a parlare di onda rossa della Corneliani questo movimento di lavoratori che per 130 giorni davanti ai cancelli il 50% d'estate e il 50% di questi giorni in pieno inverno hanno combattuto davanti ai cancelli per salvare il proprio posto di lavoro la propria azienda quella che era la seconda loro casa con una difficoltà su una vertenza che è durata un anno e mezzo il riuscire a portare fuori dai cancelli fuori dalla fabbrica tutto quello che stava succedendo dentro e allora siccome la fantasia non mancava si è immaginato di far qualsiasi cosa dalle risottate solidali ai cinema all'aperto fuori dai cancelli aziendali abbiamo ricevuto la solidarietà di più di altre 100 aziende abbiamo fatto tutti i passaggi con la politica possibili e immaginabili abbiamo parlato con quasi tutti i partiti politici abbiamo incontrato tre ministri cinque sottosegretari abbiamo passato tutte le istituzioni dal prefetto al sindaco siamo andati in regione a fare udizioni e presso il ministero di sviluppo economico e del lavoro e in tutto questo periodo abbiamo cercato di mettere al centro la complessità di una crisi industriale di questo tipo sempre per parlare di numeri non solo i numeri diretti dei lavoratori della Corneliani ma anche i numeri dei lavoratori invisibili collegati a una grande azienda che sono i lavoratori degli appalti i lavoratori della vigilanza i lavoratori della mensa i lavoratori delle pulizie i precari e anche tutti i lavoratori artigiani che sono aggrappati con la filiera produttiva di una grande azienda tessile a quello che è la Corneliani abbiamo cercato di dare un messaggio unitario assoluto a parlare con una voce come lavoratrici e lavoratori dicevamo tutto questo è avvenuto durante il Covid guardate non è un dettaglio da poco perché era tutto il periodo delle chiusure del lockdown il periodo peggiore in assoluto dove potersi organizzare cercare di riunirsi e cercare di avere lo spazio giusto e soprattutto era un periodo di grossa instabilità politica perché durante un anno e mezzo noi abbiamo parlato e visto e attraversato tre governi con la fatica ogni volta di dover andare a rispiegare al nuovo interlocutore chi eravamo dove volevamo andare quali erano le soluzioni che si potevano utilizzare e quali no scontandoci spesso con i professionisti a prendere tempo di buttare la palla in tribuna di vedere come va le questioni perché se sapete ci sono altre 110 aziende che durante il Covid sono in crisi mettetevi in fila ecco questa è una storia dove di tempo a un certo punto noi non ne avevamo più perché le scadenze del tribunale erano impellenti e l'orlo del bar tra noi lo vedevamo molto 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 vicino però all'inizio di questa storia prima ancora del concordato durante un'assemblea sindacale abbiamo fatto una proposta una promessa una proposta molto forte guardandoci negli occhi tutti quanti insieme che partiva da una verità la verità era che in questa storia non tutto dipendeva dalle nostre mani la promessa che ci siamo fatti è che tutto quello che poteva dipendere dalle nostre mani ogni strada che potevamo battere ogni cosa che potevamo fare l'avremmo fatta fino in fondo a prescindere di sapere se in fondo c'era il lieto fine o c'era il fondo del burrone ecco questa è una storia a lieto fine praticamente è l'unica storia l'unica grande crisi industriale di quel periodo che è riuscita a salvarsi si è salvata con un accordo all'ultimo secondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico fatto il 7 aprile 2021 dove per la prima volta lo Stato entra nel capitale societario della Corneliani prendendo il 49% delle quote attraverso l'Invitaglia che è l'Agenzia dello Sviluppo Economico del Ministero e ci entra e accompagna la ristrutturazione interna della Corneliani senza nessun licenziamento abbiamo accompagnato solo quelli che hanno fatto quei lavoratori che avevano già deciso di non avere un futuro in Corneliani ma che hanno accompagnato fino all'ultimo la lotta sapendo che il giorno dopo loro avrebbero preso altre scelte altre avrebbero preso altre strade e da quel giorno la Corneliani ha iniziato a risalire ormai parliamo di due anni con risultati economici molto molto importanti grande ripresa sui mercati è stata chiusa la Cassa Integrazione con un anno e mezzo di anticipo sono già state fatte più di 100 assunzioni la Corneliani è diventata un modello e lo Stato se domani mattina dovesse uscire dall'operazione che ha fatto guadagnerebbe rispetto a quanto investito inizialmente ecco allora la Corneliani è diventata un modello un modello perché per primi siamo passati come apripista in uno spazio strettissimo aprendo le porte poi a chi potrà venire dopo di noi per fare lo stesso percorso un modello dove lo Stato invece di erogare solo welfare a chiusura dell'attività ha provato a entrare nella società sostenendola questo dà prospettive assolutamente importanti sia per quello che riguarda i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro ma anche le aziende che affrontano questa grossa crisi in questi anni di grossi cambiamenti dai passaggi generazionali aziendali fino all'epoca delle grandi transizioni ci saranno grandissimi cambiamenti un pezzo l'abbiamo visto esattamente nello scorcio di prima sull'intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda la nuova tecnologia è un pezzo di evoluzione digitale che ci sarà ancora nelle aziende bene questa storia è una storia che ho raccontato sempre al plurale perché non esiste in questa storia un eroe che da solo arriva e salva tutti si prende i meriti della vicenda non esiste quasi mai nella realtà esiste solo nelle fiabe quasi sempre sono azioni collettive dove ognuno si prende un pezzo di responsabilità collettiva ci si guarda negli occhi per superare diffidenze differenze e si cerca di stare uniti il più possibile e questa è una storia che racconta soprattutto questo e che parte da due fulcri assolutamente importantissimi il primo l'unità dei lavoratori e la promessa di cui dicevamo prima l'organizzazione attraverso il sindacato che è stato fondamentale ma soprattutto la seconda che è non chiudersi dentro i cancelli della fabbrica ma porsi sempre il problema di creare dei ponti verso l'esterno il ponte principale è stato quello con la città che ha partecipato come se fosse non fosse una vertenza qualsiasi come se fosse la vertenza come se lì si giocasse un pezzo del futuro della città vero e proprio poi verso le istituzioni con prefetto sindaco e giunta che hanno combattuto insieme a noi tenendo aperte ogni possibilità verso quelle che potessero essere vere soluzioni e poi il tribunale e il commissario sono stati due punti di riferimento incredibili nei momenti di difficoltà dove sembrava veramente finita e poi i media che ci hanno sempre accompagnato ogni giorno hanno tenuto accesa una luce e un microfono rispetto a quello che stava accadendo lì trascinando anche un pezzo di opinione pubblica a ragionare a capire quello che stava accadendo in via Panizza 5 dove c'era la fabbrica della Corneliani tutto questo però a un certo punto quando eravamo praticamente sul traguardo non serviva più cioè tutto quello che ci aveva tenuto in vita fino a quel momento due anni di fantasia senza cercare di fare sempre cose nuove era stato fondamentale per arrivare fino lì ma non riusciva a cambiare i rapporti di forza ancora troppo pressati dalla presenza del Covid per cercare di ribaltare il tavolo Roma che non stava andando come volevamo che andasse noi allora abbiamo dovuto spermare ancora le meningi stanchi provare a capire cosa potevamo fare per far capire che quella non era un'avvertenza come le altre che erano in coda al Mise ma che era l'avvertenza di un territorio era un'avvertenza accompagnata da tutti ed era una speranza collettiva allora abbiamo pensato a una cosa semplice cioè che dopo 70 anni di un'azienda così importante nel territorio tutte le persone conoscevano una persona o che era passata in coordinare a lavorare o che ci stava ancora lavorando allora abbiamo cercato di fare di dare un singolo volto a quei piccoli pezzi di numeri che una crisi industriale così grande mostrava e non mostrava e allora abbiamo deciso di mostrarli con orgoglio comprando le prime quattro pagine della gazzetta di Mantova che non ci ha mai lasciato solo in nessun giorno della nostra vertenza l'abbiamo comprata per mettere 400 volti 400 storie in prima pagina e dire noi siamo la Corneliani anche noi siamo la Corneliani ed è stata il colpo di reni che ci serviva per aggiustare quel tavolo e per dare un contorno alla crisi e le crisi come dicevamo prima sono crisi a prescindere dalla loro natura umanitaria sociale industriale nascondono volti persone storie che bisogna superare i numeri per andare a conoscerle per cercare di capire le crisi una tempesta è composta da un milione di gocce d'acqua solo orientate tutte con il vento giusto questa è una storia di un'onda formata da tante gocce passate in mezzo una tempesta tutte con il vento giusto grazie